Pasta, pomodoro e basilico, però oggi pasta corta. Eh, perché l'altra sera i tagliolini erano un po' incollati. C'hai, Magareta? Sì, sì, io sono Olivia, la figlia. Poverina. Evviva la regista! Mamma, non dovevo fare il classico. Che lo faccio a fare questo latino? A che serve? Mantenere questo equilibrio diventa sempre più difficile. Siete voi che dovete valutare, non lo so, se prepararla... Prepararla? Fai qualcosa di nuovo, di diverso. Rompi almeno un tuo schema. Uno su duecento. Chi era quella ragazza? Perché fa così? Perché? Che fa così che... Stiamo andando dritti. In un ritirino fa così. Ma eh... Non è un film triste, è un film pieno di energia, di speranze. Sì? Sì. Bene. No, ma davvero? No. Eh, ci credo. Ottieni! La roba dei famine! Ho portato te la mio Vento! Stanley m'era... Bravato realized. Non hai mai lavorato con Stullico? Non ho mai lavorato con Stullico? Perchè sei un coglione! Portiamolo a casa Giovanni. Grazie a tutti